Dal 15 novembre per i successivi 5 mesi tutte le auto dovranno munirsi di pneumatici invernali oppure di catene a bordo per poter circolare evitando sanzioni e multe come di norma viene stabilito per legge. Il cambio delle gomme nella stagione invernale è legato non soltanto alla neve ma anche alle temperature e le condizioni di strada e asfalto. Il rischio più plausibile che porta all'incolumità della vettura si verifica di norma quando le temperature si abbassano sotto i 7 gradi centigradi al di sotto dei quali le caratteristiche studiate per le gomme invernali funzionano al meglio. I pneumatici infatti sono sviluppati e testati in modo tale da aumentare l'aderenza alla strada assicurando le migliori prestazioni. Ogni anno sono in tanti gli automobilisti a recarsi presso le officine per effettuare il cambio gomme o in alternativa l'acquisto di altri dispositivi antisdrucciolo come le catene che secondo la norma nazionale devono essere perfettamente omologate al veicolo di proprietà e in caso di abbondanti nevicate devono essere obbligatoriamente montate sulle ruote motrici. La tendenza è anche verso il quattro stagioni per chi magari fa poca strada e permette sicurezza si compromesso buono. I costi? Ma i costi mediamente su una gomma media da 16 siamo dai 70 ai 110 120 massimo quindi ecco però ci sono dei prodotti intermedi che vanno bene ci sono diverse tipologie di pneumatici oppure c'è uno standard? Ma come qualità ce ne sono diversi quindi bisogna stare un po' attenti grazie a queste etichette tenute sul bagnato e rumorosità sono da valutare un attimino. I prezzi sono... c'è tanta differenza tra un top di gamma e una cinese. Previsti inoltre sanzioni per i trasgressori con multe a partire da 41 euro nei centri abitati, 84 al di fuori e fino a 300 euro in autostrada con la decurtazione fino a tre punti della patente. Infine se vengono usate gomme con codice di velocità sbagliato ovvero coloro che utilizzano gomme invernali nei periodi estivi sono previste sanzioni molto ingenti a meno che i pneumatici invernali o le cosiddette quattro stagioni abbiano un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato nella carta di circolazione.